Mbappé Volvino con Mbappé Buona reazione defensiva Erling Brautholland Volvino con Mbappé A Barcelona può vengare E' un'opportunità di Sunika E non perdono nulla E' reacciono l'Ordre Pater Alexia Il turno di Philipp Lahm E' l'affrontato In busca della portaria contraria Però la defensa Logra cortarla no più E' l'affrontato Viene Rodri Calepone! Attà l'Ira Malleco! Averc! Mbappé recibe! Mbappé la regalò! Zinedine Zidane! Mbappé tiene con quien apoyarse! Però logran frustrar un ataque que se veía sólido! Averc! Siga, siga, dice l'árbitro! Mbappé! Patrick Vira controlandola! Gran pas en esta jugadora! Puede haber gol! Bola! Se ve bien! Gol! Con esto recupera la ventaja! Ahí está y festeja de nuevo! Tienen el marcador a su favor! Zidane! Ya viene el entretiempo! Y por ahora es poco! Por lo que pierde la visita! Veremos si remonta! Cuidado señores! A no confiarse! Porque este equipo! Y con la historia que tiene en sus espaldas! Ha sabido dar vuelta! Un resultado más peligroso que este! Así que no hay que dormirse en los laureles! Amplio espacio para avanzar por ahí! Ahí va la pelota del área! Jugada desperdiciada! Rechazan la pelota! Mia Ham con el balón! Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso! Numero 2 Aplaudan! ¡Pero no! ¡Como le salio esta jugada! Pero fue de verdad! Lo vi con mis propios ojos! Sí, su! Sisu! Se va la pelota lejos! A menos ni de vergüenza pegando esta mano! ¡Se va la pelota lejos! Pasò cerca e non pudo essere. È una pena, Fernando, perché era una opportunità molto grande che aveva per ampliare, se cabe la parola, un pochino più il risultato. Come è, tiene due parti, arriviamo alla fine. Grazie a tutti. 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 questa volta non pudo essere il balone si va di largo Neymar ahi si viene la transizione a tutta velocità parecìa buona però terminò horrible Cristiano Ronaldo già entramos nel ultimo quarto di ora del partito Gulland lo va a tener e a Camp con il balone può arrivare il punto capa molto bene per aleggiare il peligro ha cortato una jugata peligrosa per la decisione del arbitro dopo questa volta balone si saca le queda il balone in peligro siamo a punto di terminare con questo che ha sido un festival però solo per un equipo la visita si va a ir con la canasta llena di goles oggi si è tutto a la perfezione non c'è dubbolo in nessun momento fuori meglio che lì non solo per il risultato se vediamo il risultato e la scarifica è tutto tutto a favor del fredinand questo è Ferdinand Delic con la boccia balone Ferdinand Jun Bellinga è del banco rival che le grita che recupera la pelota però parece che la tarea sta in chino guarda con esa falta e va per la pelota viajan con il balone ha recuperato la boccia a Kain fuori di gioco Habrà un minuto di tempo agregato Se termina il partito Triunfato del quadro visitante Ora si è la fiesta Marca del gol Claro il proposito di questo gruppo è di continuare in attacca Volvieron con Mbappé A ver se logra aprovecharlo in questa opportunità è unica GOOOOOOOL Y no tardaron nada en reaccionar En lograr un empate ¡GOLO! Se viene a gol ¡GOL! Con esto recupera la ventaja Ahí está el festejo de nuevo Aplaudan que esto es fútbol Es misterioso Cómo le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Se va la pelota lejos Y felicitò Se viene a gol Cristiano è sospendito! E' un'altra! Per la creazione di golgi! Cristiano è sospendito per l'aria! Lanzandosi una tijera memorabile! E' un'altra!